Emergenza posti letto per la gestione dell'epidemia da Covid-19, quanto accaduto nel Cilento a pochi giorni dall'attivazione dell'ospedale civile di Agropoli come Covid Center e già saturo nella disponibilità di posti letto per la gestione dei casi di infezione, porta ad aprire una nuova riflessione sulla questione ospedale di Sant'Arsenio per il quale da diversi mesi viene sollecitata la riapertura dal gruppo Si Cambia. L'apertura dell'ospedale di Agropoli è stata considerata dal senatore Castiello in una recente interrogazione parlamentare una parziale risposta alle esigenze dei territori, considerazione giusta viste le notizie che arrivano ora dal presidio ospedaliero del Cilento. Eppure il tempo c'era per poter aprire un più ampio discorso ed una più attenta valutazione alle proposte avanzate a tempo debito dai consiglieri comunali di Sant'Arsenio del gruppo Si Cambia, Luigi Pandolfo, Arsenio Sperre e Nicola Costa, che nei mesi primaverili di massima emergenza ed in particolare a cavallo tra marzo e aprile avevano più volte sollecitato attraverso anche perizie tecniche e scientifiche la necessità e la possibilità di poter riaprire l'ospedale di Sant'Arsenio come Covid Center, ossia per la gestione specifica dei casi Covid in maniera tale da poter ricoverare i soggetti affetti da SARS-CoV-2 che necessitavano di assistenza sanitaria costante. I sette mesi trascorsi sarebbero stati sufficienti per allestire l'ospedale Sant'Arsenio annunziata di Sant'Arsenio come centro Covid. Il 26 ottobre scorso dall'unità di crisi della regione Campania è arrivata a tutti i referenti di ASLE e aziende spedaliere la richiesta di provvedere, oltre alla riconversione di reparti le cui attività risultano sospese per l'emergenza, reparti Covid, anche di riconvertire interi ospedali alla cura dei casi Covid. Perché non attivarsi quindi nella riapertura di quegli ospedali chiusi come Sant'Arsenio che comunque sono già dotati di spazi idoni al ricovero di pazienti? Una richiesta quella dell'unità di crisi regionale che avalla la proposta avanzata da mesi dei consiglieri comunali di Sant'Arsenio, Pandolfo, Spera e Costa che già lo scorso marzo sollecitavano la riapertura dell'ospedale di Sant'Arsenio da destinare alle cure dei pazienti Covid, a supporto anche dell'ospedale Pollese, oltre che di tutto il territorio e quindi, come è ora si sta evidenziando, anche del Cilento e del Golfo di Policastro. Ad oggi però ancora è tutto fermo, nonostante si sia nel pieno di emergenza e nonostante da diversi mesi da più parti era stata prevista una nuova ondata di casi di contagio.